Dottor Paolo Colla, amministratore di IEM, oggi parliamo di quello che sta avvenendo nel campo delle multiutility, il messaggio del governo è spingere alla riduzione del numero di aziende partecipate per concentrarle. IEM anche in quest'ambito ha una sua strategia, tutti parlano in questo momento di fusione tra IEM e mobilità ed FTB ma penso che non sia l'unico progetto in cantiere. Sì, non è l'unico progetto in cantiere, è un progetto importante perché incide su un servizio che ha bisogno di una logica unitaria su un'area vasta per l'integrazione del servizio urbano ed extraurbano. Non è l'unico processo aggregativo, il legislatore impone di perseguire le aggregazioni tra le partecipate degli enti locali, anche negli altri settori ed è in atto il tentativo da parte di IEM di collegarsi alle altre aziende pubbliche dei servizi pubblici locali del Veneto per verificare la possibilità di creare aggregazioni. IEM ha un po' in mano tutti i servizi, in particolare quelli che riguardano l'ambiente, quindi i rifiuti e l'energia. In quest'ambito cosa si pensa? Beh, per quanto riguarda l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti è già stata costituita da un anno. La rete di imprese pubbliche locali, che si chiama Rete Ambiente Veneto, con Alto Vicentino Ambiente, Etra, Padova e Bassano, Altopiano d'Asiago, Contarina, Treviso, Eco Ambiente, Rovigo. Questa rete già connette tra di loro gli operatori di un bacino molto grande nel Veneto centrale. All'interno di questa rete sono in atto ulteriori valutazioni per aggregazioni ulteriori tra soggetti di questa rete. Questo riguarda tanto l'ambiente quanto gli altri settori nei quali il gruppo è presente. Quindi l'energia, che è un altro aspetto molto importante? Sì, guardi, stiamo perseguendo un disegno molto ambizioso, che è quello di creare una multi-utility del Veneto centrale. Quindi una multi-utility vuol dire che opera in tutti questi settori. È vero che tra le multi-utility presenti nel Veneto centrale è solo IEM che ha il settore della vendita dell'energia e del gas e della distribuzione del gas. Se nascesse una multi-utility come un spicchiamo di questo tipo, IEM porterebbe in dote questi settori, il suo know-how e anche le sue strategie, che sono quelle di partecipare alle gare gas e di crescere nel mercato della vendita dell'energia. Anche perché se il fenomeno in atto è quello in corso, se vede appunto le banche, ma di un'aggregazione maggiore, potrei partecipare a gare di ambiti diversi diventerà vitale, altrimenti limitarsi al proprio territorio potrebbe essere gestito presente senza avere un futuro. Sì, sono d'accordo. Anche se nei vari settori la logica aggregativa e quella dell'effettuazione delle gare è diversa. Nel senso che, come sappiamo, per quanto riguarda la distribuzione del gas, l'Italia è divisa in 177 ambiti. La provincia di Vicenza contiene 4 di questi ambiti. Noi intendiamo certamente partecipare, se possibile, vincere nell'atem numero 1, quello di Vicenza, dove siamo presenti. Abbiamo anche degli obiettivi, diciamo dei piani B per poter partecipare anche dopo ad altre gare. Vedremo perché il calendario delle gare distribuisce le gare nell'arco di 2-3 anni. Diversa la questione dell'ambiente perché la normativa attuale prevede un'autorità di governo dell'ambito di Vicenza che comprende quasi tutta la provincia di Vicenza, esclude solo Bassano e l'Alto Piano di Asiago. Quindi ci sarà una gara unica. Quindi è importante che ci sia un soggetto che si possa candidare a gestire il servizio dell'igiene urbana e dello smaltimento dei rifiuti in un ambito così grande. Quindi un IEM più ETRA più AVA potrebbe avere delle chance maggiori? Sì, potrebbe avere delle chance. Lei nella domanda ha citato i tre soggetti con i quali stiamo approfondendo la valutazione. Insieme abbiamo condiviso un documento che si chiama considerazioni preliminari per un processo aggregativo ed è un documento che abbiamo scritto per le proprietà, quindi per gli enti locali proprietari di queste tre società perché riteniamo che queste tre società che sono sane, producono reddito e hanno una struttura patrimoniale equilibrata, riteniamo che possano essere i tre soggetti che consentono ai comuni proprietari di mantenere il controllo sul territorio perché l'alternativa sarebbe svendere le piccole aziende che ci sono adesso a soggetti più grandi quotati in borsa. Visto che il progetto è molto ampio penso che avremo modo di tornarci però per chiudere questa anticipazione, chiamiamola così, perché sia ancora nella fase di studio, di proposte, di valutazioni. IEM è l'unica multidividi tra le aziende che abbiamo citato che ha tutti i servizi, energia, ambiente, reti e così via. Etra ha un settore che riguarda l'ambiente e un settore che riguarda la distribuzione idrica. Ava ha essenzialmente raccolta dei rifiuti e Schio, quell'area lì, ha deciso di alienare l'attività di Pasubbio, della Pasubbio che si occupava di reti. Ecco, IEM non rischia di essere guardato come il padrone forte che fagocita le altre? Come risponderà alle... l'Italia è un paese di comuni, no? Come risponderà ai timori dei singoli sindaci che invece di vedere avanti si guardano indietro? Ma è assolutamente comprensibile che i sindaci vogliano mantenere diritto di parola sul servizio erogato nel loro territorio. Il fatto è che la conoscenza della normativa e delle sue evoluzioni di quest'ultimo periodo dice che il sogno di un comune non grande di mantenere il controllo del servizio pubblico locale del proprio territorio resterà un sogno perché la normativa per l'appunto prevede forti incentivi o penalizzazioni a chi non lo fa per quanto riguarda i processi aggregativi. Quindi è vero che IEM è una vera multiutility, è a tutti i servizi e che gli altri possibili soggetti gestiscono meno servizi, hanno meno una logica multisettoriale. Ma è anche vero, primo, che IEM è il punto più vicino che c'è al territorio della provincia di Vicenza e della provincia di Padova. Secondo, IEM ha dimostrato in questi anni e c'è riuscita perché aggregando la rete, per esempio, IEM se ne è guardata bene dal far pesare la propria dimensione e abbiamo aggregato un processo perché abbiamo deciso che si lavora una testa un voto a prescindere dalle dimensioni dell'azienda. Anche in questi processi aggregativi sappiamo che non deve prevalere l'egoismo aziendale ma bisogna cercare le ragioni per coinvolgere tutti senza utilizzare rendite di posizione. Per cui una multiutility che nascesse in provincia con la partecipazione di tutti i comuni è vero, probabilmente obbligherebbe i singoli comuni all'accessione di una piccola parte della sovranità, ma è anche vero che l'organo di governo, il punto decisionale, resterebbe direttamente controllato dai comuni del territorio, cosa che non avverrebbe se rinunciando a questo processo aggregativo ci si trovasse poi a dover davvero cedere le partecipazioni a una grande quotata in borsa con sede lontana dal Veneto. Non dimentichiamoci che IEM ha già una presenza commerciale di distribuzione a Treviso nel campo del gas e anche in centro Italia. Sì, abbiamo no, per quanto riguarda la distribuzione è effettivamente a Treviso, per quanto riguarda la vendita di energia e di gas siamo presenti in tutto il territorio nazionale, lei credo facesse riferimento all'azienda di cui abbiamo acquisito la maggioranza in Abruzzo ed è vero abbiamo acquisito la proprietà dell'azienda COGAS che ci porta in dotto 25.000 clienti. È vero però anche che stiamo crescendo in tutto il territorio nazionale, ricordo che abbiamo fatto una convenzione recentemente, due anni fa, con l'Associazione dei Commercianti e questa convenzione ci sta determinando in moltissime realtà territoriali anche lontane l'acquisizione di clienti importanti. Quindi nel mercato libero della vendita di energia stiamo crescendo e il processo aggregativo ovviamente offrirà opportunità di ulteriore crescita fuori dal Comune di Vicenza. Oggi tutti parlo di Banca Popolare di Vicenza, di Banca Veneta. L'ultima domanda, allarghiamo ancora lo sguardo. Una banca radicata sul territorio come comunque rimarrà la Popolare di Vicenza, al di là di quella pur importante che sarà la proprietà, perché non dimentichiamo che il radicamento della Popolare di Vicenza o della Veneto Banca sul territorio è determinato dai clienti più che dai proprietari, può essere utile come spalla finanziaria a un'aggregazione locale come quella di cui lei sta parlando? Certamente può essere utile perché il processo aggregativo non viene fatto esclusivamente a livello societario o a tavolino. Significa aprire opportunità di investimenti importanti. Ovviamente per quanto attiene all'impiantistica, faccio un esempio del trattamento dei rifiuti delle frazioni della raccolta differenziata, quindi la plastica, la carta. Ovviamente un conto è fare dei piccoli impianti adeguati alla capacità produttiva di una piccola porzione di territorio. Un conto è poter procedere su impianti di dimensioni tali e di scala di produzione tali da aumentare di molto l'efficienza e quindi al punto di dare un beneficio diretto al territorio. Bene, processi di investimento di questo tipo devono poter contare su un mondo del credito aperto a questi sviluppi. Credo che una banca ancorata al territorio sarebbe un partner fondamentale per il processo aggregativo. L'ultima domanda, ma lei sa che sono un po', non sempre mantengo la parola in questo caso. Vicenza che è ricca di aziende, storicamente non ha aziende in borsa, se non di passaggio la Soco, Terme e così via. Andrà in borsa ad aprile, salvo sconquassi, la banca popolare di Vicenza. L'AIM guarda anche la borsa oppure no nella nuova possibile configurazione? Beh, mai dire mai, nel senso che soprattutto se funziona il processo aggregativo si raggiungeranno dimensioni sufficienti, più che sufficienti, alla quotazione in borsa. L'andare nel mercato dei capitali è una condizione importante per attrarre risorse perché stiamo parlando di settori industriali importanti che hanno grandi possibilità di sviluppo attraverso gli investimenti. Quindi l'accesso al capitale di rischio è importante per poter crescere nella misura in cui i settori lo richiedono e il territorio pure. Ci fermiamo qui, ma penso che dovremmo tornare a parlarne. Va bene, sempre a disposizione, con piacere. Grazie. Grazie. Grazie.